Se tu sei un figlio di Dio e se non sei un figlio di Dio Se tu sei un figlio di Dio, nonostante l'opera di Dio in te, tu continui a peccare Certamente c'è una differenza fra camminare nel peccato e cadere nel peccato Camminare quando non vuoi lasciare, tu hai un peccato e non vuoi lasciare quel peccato Ti giustifichi, lo ignori, però non vuoi lasciarlo E prima Giovanni dice che se uno dice di conoscerlo e per modo di dire cammina nel peccato Dice è bugiardo e non l'ha conosciuto, dice ma no, ma io sono credente, solo che Solo che, non dire solo che, se tu ti trovi in quelle condizioni, grida a Dio e scappa via Da quel peccato a Cristo confessandolo Però un vero credente cade, cade La santificazione è crescere al punto che cadiamo sempre meno Perché quando confessiamo veramente il peccato Dio non solo ci perdona, ma fedele e giusto non solo perdono, ma anche da purificarci E quindi che vuol dire che arriviamo a non solo continuare Voltero, 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 ma io cado ancora Ok, spesso a quel punto ci sono peccati di fondo che non stai confessando Come l'uomo che ruba Signore non voglio essere un ladro Però non confessa mai il peccato di cercare la soddisfazione nelle ricchezze Quindi, confessa e rubare, ma non confessa l'idolatria di amare le cose materiali E se smettessi di rubare e cominci a lavorare, due lavori, trascurando la famiglia e la Chiesa Per avere più soldi, ha lo stesso peccato Non ruba, ma ancora ha l'idolatria Quindi quando continuiamo, continuiamo a cadere, volta dopo volta, di solito È perché c'è qualcosa che non stiamo confessando E questo è buono sapere Però la santificazione è che Dio ci perdona E ci purifica È come la cipolla che ha tanti strati All'inizio della salvezza stai riconoscendo peccati abbastanza fondamentali, basilari E grazie a Dio man mano non li fai più Ma poi riconosci così più di carattere dentro il cuore Allora, quando un vero credente pecca Lo Spirito Santo Le fa vedere il suo peccato Non vuol dire che sempre lo riconosce Perché forse non vuole Ma lo Spirito Santo fa vedere E ho scritto giù tre modi Che lo Spirito Santo ci fa vedere i nostri peccati Il primo è tramite la parola di Dio In modo diretto La mia lettura Un insegnamento Un sermone, un studio Che sto ascoltando Viene e dice Signore, quello faccio io Quello è il mio peccato Quindi la parola di Dio O mentre leggo O mentre la sento Ok? E la parola di Dio È veramente una luce È una lampada Sul nostro sentire È una luce per i piedi E quindi Che è importante Quanto è importante perciò Quando leggiamo la parola Non è per conoscere di più La Bibbia Non è lo scopo Non è lo scopo Lo scopo è di conoscere più Dio Lo scopo non è di conoscere la Bibbia Lo scopo è di conoscere Dio E un frutto di quello È di conoscere più il nostro peccato Se vedo la santità di Dio I miei peccati Vengono messi in rialzo In rilievo E se non sto vedendo i peccati Magari io sto avendo una conoscenza intellettuale Della Bibbia Di Dio Della doctrina Magari io riesco a fare condivisioni In chiesa Doctrinalmente precise Ma non capiscono il mio cuore E probabilmente non capiscono il cuore degli altri Sono doctrine aride Allora la Bibbia qui insegna questo E la mia condivisione è una descrizione di quello che è una verità Ma non mi ha colpito No Le verità dovrebbero colpirci Dovrebbero colpirci E se ci colpiscono Vedremo tanti peccati Quindi Quando leggiamo Quando ascoltiamo insegnamenti Ah voglio capire quella doctrina Mi ricordo Una volta Allora io voglio capire la differenza fra gli olocausti e i sacrifici di un altro tipo Bruciate Allora E' buono Ma infatti questa persona mi faceva spesso domande Nessuno delle quali faceva mai vedere nessun peccato Erano sempre domande astratte sulla Bibbia Ma qual è la differenza fra questo e quello Ok bene Cerco di spiegare Ma non faceva veramente mai vedere più di Dio Più di se stesso Io voglio leggervi per conoscere più Dio Quindi Dio ci fa vedere il peccato tramite la Bibbia Un secondo modo Che Dio ci fa vedere più del peccato E' tramite la coscienza Dio ha dato a tutti una coscienza Anche non credenti La coscienza non è perfetta Non ci fa vedere tutto Ma può essere un grande aiuto Vi leggo alcuni versetti Ce ne sono tanti che parlano della coscienza Atti 23.1 Paolo Fissate gli occhi sul sinedrio Dice Fratelli Fino a questo giorno Io mi sono comportato davanti a Dio In perfetta buona coscienza Allora stai dicendo che non avevo mai peccato? No Ma quando ha peccato Ha subito confessato Quindi la coscienza era pulita Perché quando cadeva Confessava Quindi la coscienza era pulita In 1 Timotio 1.5 Esortante Timotio Ora il fine del comandamento E' l'amore Che viene da un cuore puro Da una buona coscienza E da una fede non finta Il vero amore viene da un cuore puro Quindi un cuore che non serva peccato Quando cade confessa Allora scusate Ci sono peccati Rubare Aduterio Uccidere Odiare Ma ci sono peccati Carnali Molto meno visibili C'è un libro Peccati rispettabili Da Joey Bridges Che parla di peccati Che vengono accettati Fra credenti Non ne parliamo E abbiamo parlato qui Se io manco Visione Che vuol dire Non voglio Fare troppo Che è pesante Per andare in la direzione giusta Con me Con i figli Con la chiesa Quello che sia Allora Quello è un peccato Ma non è visibile Non è come scattare con ira Quello è visibile Ma essere preso Con oggi Ho parlato con un fratello In questi giorni Chiedendo a lui Di valutare Di prendere un impegno Nei miei confronti Grande E di fare parte Del consiglio direttivo E ho detto Allora attenzione Ci incontriamo Una volta all'anno Però Questo impegno Vorrebbe dire Che ci sentiamo Ogni mese A una lunga chiamata Quindi richiede Un impegno Di tempo E io so Che questo fratello È pieno Zeppo Ok È un uomo pieno È un anziano Nella chiesa Lavora improprio Che vuol dire Non ha rario E poi Ha situazioni Con i figli Una figlia Con grossi problemi Grossi di salute Che ha tre figli E loro I genitori di lei Lui e sua moglie Aiutano tantissimo La figlia Perché lei Più o meno Ceca E ha altri problemi Di salute Quindi è un uomo Mega impegnato E la sua risposta A me Quando ha detto Allora Se tu vuoi valutare questo Devi sapere Che richiede Molto tempo Quindi se dice Ah ma non ho tempo Ho detto Marco Non posso Tenere conto Del tempo Lui è mega impegnato Se è da Dio Devo prendere il tempo Questa è la sua risposta A me Allora Lui è un uomo Che non ha hobby Non ha tempo Non ha tempo per sé La figlia È messa male Ok Le conosco Cioè Ha avuto problemi Da più di 20 anni Adesso Da quando era bambina E ormai è cieca Completamente L'altro L'altro occhio È 90% cieca Cercando di crescere i figli Scuola in casa Non può neanche vedere Per fare i mestieri di casa Quindi I genitori di lei E lui Devono fare molto Oltre al lavoro Oltre a essere un anziano Coinvolto nella chiesa Di 300-400 persone E lui ha detto Marco No non tengo conto del tempo Non valuto se ho il tempo Se questo era Dio Prenderò il tempo Allora Ho detto Questo è un esempio Questo è un esempio Quindi Parlando in primo tomotio 3 Delle qualifiche di diaconi Paolo dice 3, 8 e 9 Similmente i diaconi In Ebrei 13, 18 Pregate per noi A rispondere a rispondere A vostra difesa A chiunque vi domandi Spiegazioni Della speranza Che è in voi Con mansuitudine E timore Avendo una buona coscienza Affinché Quando vi accusano Di essere dei malfattori Vengono svergognati Coloro Che caluniano La vostra buona condotta In Cristo Camminate in modo Di avere una buona coscienza In modo che Qualunque accusa Cada a terra Perché in nulla Possono accusarvi Ma io non sono perfetto Se tu confessi subito I tuoi peccati Anche ai non credenti Nella tua vita Non avranno accusi Accuse Contro di te Allora Dio ci ha dato Una coscienza Che ci aiuta A vedere il nostro peccato Non è sufficiente Non sempre vediamo tutto E possiamo Far addormentare La nostra coscienza Quindi non è in sé sufficiente Ma può essere un mega aiuto Perciò Quando la tua coscienza Ti parla Ascoltola Non andare contro la coscienza Sai non so se questo è il caso O no E allora a quel punto Cosa fai? Non farlo Non farlo Questo è importante Il terzo modo Che lo Spirito Santo Ci parla E tramite Gli altri Tramite Altre persone La Bibbia La Bibbia Parla di questo Molto Per esempio Leggo Romani 15 14 Ora Fratelli miei Io stesso Sono persuaso A vostro riguardo Che anche voi Siete pieni di bontà Pieni di ogni conoscenza Capaci anche Di ammonirvi Gli uni Gli altri E esortandovi Ad ammonire i disordinati A confortare gli scoraggiati A sostenere i deboli E ad essere pazienti Verso tutti Ammonire i disordinati Cosa vuol dire disordinato? Vuol dire non camminare Secondo la parola di Dio La Dio ci dà una chiara ordine Come vivere E se non facciamo quello E attenzione Non è solo Non commettere all'uterio Non rubare Non mentire Certo Ma vuol dire Uomini Mariti Amate le vostre moglie Come Cristo ama la Chiesa Donne Siete sottomesse ai vostri mariti Genitori Allevate i vostri figli Nell'istruzione A monumento Disciplina Dello Signore Quindi Non è solo Non rubare Non mentire Ma comprende tutto questo E quindi E quindi abbiamo bisogno Di ammonire i disordinati Uno che ignora Certi comandamenti Non per ribellione Aperta Può essere Ma può essere Solo che è presa E non ci pensa È disordinata Cioè quello è disordinata Disordinata Non vuol dire Necessariamente Ribellione Vuol dire però Che non sto Camminando in modo Ordinato Secondo che Dio Mi insegna Poi Ebrei 10 24 25 E consideriamo Gli altri Per incitarci All'amore E a buone opere Non abbandonando Il radunarsi Assieme di noi Come alcuni Hanno l'abitudine Di fare Ma esaltandoci A vicenda Tanto più Che vedete Approssimarsi Il giorno Abbiamo bisogno Di incitarci Ricordate La parola Che vuol dire Un bastone Puntato Che tu dai Una colpa Da dietro Ok E poi Esaltandoci A vicenda Abbiamo bisogno Di essere Nella vita Gli uni Degli altri Quindi Lo Spirito Santo Ci parla Tramite la parola Tramite la coscienza E molto spesso Tramite altre persone Però Non vogliamo Sempre ascoltare Allora È facile Non ascoltare La parola Leggo E quello che dice A me Del mio peccato Non vedo Sento un sermone E dico Oh io conosco Gente che fa Quello E non vedo Me stesso Oppure Oh lui Spaglia Quello che è Dentro di me Posso far Tercere La coscienza Appunto Che non mi affligge più Ma gli altri Gli altri Che vengono Proprio Per ammonirmi Per parlarmi In modo chiaro Del mio peccato È facile Far tacere La coscienza È facile Ignorare Nella mia testa La parola Ma altre persone Allora I proverbi Ci descrivono Due modi In cui Possiamo rispondere Quando qualcuno Ci parla Dei nostri peccati O di un peccato Proverbi 9 e 8 Non riprendere Quando qualcuno Ti parla Del tuo peccato Ma non è così Tu mi vedi Sempre male Cioè Come O che lo dici O che lo pensi Come rispondi Al tuo cuore Quando qualcuno Ti parla Del male Cerchi di scappare Di mandare Suo controattacco Ti agiti Ti senti Ma non sempre Mi vedi male Cosa pensi Quando qualcuno Ti parli Ti parla Del tuo peccato Il saggio Ama Chi lo riprende Vi assicuro Ricevere riprensione Non è mai piacevole Allora Visto che è doloroso Ed è doloroso Perché il saggio Ti ama Quando lo riprende Visto che è doloroso È doloroso Perché ti ama Che sorriso Perché Perché vuole più di Cristo Vuole più di Cristo E sa che il peccato Lo ostacola da Cristo E perciò Quando tu gli parli Per quanto è doloroso Dici Signore grazie Non avevo visto questo O ero indurito Dipende Grazie Signore Ancora hai mostrato Misericordia Che mi mostri Che posso vedere E abbandonare Questo peccato E avere più di te E ti ama Allora Proverbi 19.25 Dice Percuoti Percuoti No Cioè percuotere È duro Non vuol dire orgoglio Non vuol dire cattiveria Ma vuol dire Senza mezzi termini E qui E qui dice Non abbandonare Lo scherzo Cerco di aiutarlo Cerco di aiutarlo A vedere il suo peccato Perché può diventare Accorto Può Prendere saggezza Hai ragione Hai ragione Che stolto Che sono stato Allora Tu sei Un saggio Tu ami La riprensione Tu ami Chi ti riprende Dice Dice proprio Riprendi il saggio Ed egli ti amerà Tu Sei un saggio Tu ami Chi ti parla Del tuo peccato Ho parlato Con un caro fratello In America Mi diceva Sai Non è la nostra cultura Mica solo in America Non è la nostra cultura Di parlare Gli uni con gli altri Del peccato Non siamo abituati a quello Questo fratello Siamo amici Da Più di 35 anni E lui diceva Tu sei l'unica persona Nella mia vita Che Da 40 anni Mi ha mai parlato Di peccato Nessuno mi ha mai parlato Di peccato È un uomo Che cammina bene È un anziano di chiesa Però Non è mica l'unico Abbiamo tutti i peccati Ha detto Nessuno Nessuno In 40 anni Mi ha mai parlato Di peccato Tu sei l'unico E mi spezzo il cuore Perché sono l'unico Dovremmo amarci Abbastanza Ma non è la cultura Certamente Quando non vogliamo ricevere La riprensione Non vogliamo Vedere Non vogliamo Valutarci Vogliamo Rifiutare Gesù dice Giovanni 7 Il mondo Il mondo Tu odia Tu odia vedere I tuoi peccati Che ti pesa tanto Ma non è vero Perché Lui solo mi vede male Lei solo mi vede male Cos'è la tua reazione Quando uno ti parla Oppure Nessuno ti parla Dei tuoi peccati Perché Conoscono Come reagisci E perciò E' più facile Solo lasciarti Notiamo Il cuore Di chi Odia la riprensione In Proverbi 1 24 a 29 La saggezza Qui parla Che è Dio Poiché Ho chiamato E voi Avete rifiutato Ho steso La mia mano E nessuno Vi ha fatto Attenzione Anzi Avete rispinto Ogni Mio consiglio E non avete Accettato La mia correzione Anch'io Riderò Della vostra Sventura Mi farò Beffe Quando verrà Ciò che temete Quando ciò Che temete Verrà come Una tempesta E la vostra Sventura Arriverà Come un uragano Quando verranno Su di voi L'avversità E l'angoscia Allora Essi Grideranno A me Ma io Non Risponderò Mi cercheranno Con primura Ma non Mi troveranno Poiché hanno Odiato La conoscenza E non E non Hanno scelto Il timore Dell'Eterno Orribile Terribile Spaventevole Cosa dice Dio Qua Quando Non Accettiamo La correzione Quando Rispingiamo La correzione Da Dio Che ci manda Dalla parola Tra la conoscenza E tramite le persone Quando Rispingiamo La correzione E Dio Così dice Dio Quando mi chiameranno Signori 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 Non risponderò Aiutami Salvami No 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 Perché non mi volete Io sono santo Se volete me Dovete abbandonare I vostri peccati Volete il mio aiuto Non volete me Io do Più che aiuto A chi vuole me Ma per avere me Dovete vedere E ravvedervi Dei vostri peccati Quanto è grave Non accettare La correzione Rifiutare La correzione La riprensione Ci porta Molto lontani Da Dio Prima di tutto Cosa vuol dire Per la coscienza Diventa Insensibile Non senti più Quasi niente Cosa vuol dire Per come Leggiamo la parola Non vediamo Tutto quello Che Dio dice Noi leggiamo Leggiamo Portiamo le nostre Belle condivisioni Ma non tocca Il nostro cuore E poi Crea un muro Con chiunque Cerca di parlarci Del nostro peccato Ma non è quello Il peggio Crea un muro Con Dio Crea un muro Con Dio Proverbi 5 Sta esortando Il figlio Il padre Esortando Il suo figlio Di non andare Dalla donna adultera Ok Il contesto è quello Però il principio Qui vale per qualunque Peccato Quindi il contesto È quello Ma voglio notare Dove finisce la vita Voglio dire quello ancora Per i giovani Voglio notare Dove finisce la vita Di uno Che non ascolta La correzione Che Dio ci manda In vari modi Quando uno Disprezza la correzione Uffa Sempre parlo così Io so quello che dirà Eh ma Ormai Non dico niente Cioè Quando noi Non ascoltiamo Di cuore La correzione Dove finirà la vita Terreno Poi peggio ancora Tardimente Leggo Proverbi 5 Da 7 A 13 Perciò ora Figli miei Ascoltatemi E non allontanatevi Dalle parole Della mia bocca Tieni lontano Da lei La tua via E non avvicinarti Alla porta Della sua casa Per non dare Ad altri Il tuo vigore E i tuoi anni Ad uno senza pietà Perché gli estranei Non si sacchiano Dei tuoi beni E le tue fatiche Non vadano in casa In uno straniero E non gemma Quando verrà La tua fine Quando la tua carne E il tuo corpo Saranno consumati E debba dire Come mai Ho odiato L'ammaestramento E il mio cuore Ha disprezzato La creazione Non ho ascoltato La voce Di quelli Che mi ammaestravano E non ho prestato Orecchio A quelli Che mi insegnavano Avete sentito La disperazione Dice Figlio mio Se tu non ascolti La creazione Che vuol dire Umiliarti E cambiare via Tu arriverai A gridare Con grande rimpianto Perché non ho ascoltato Era vero Era vero Rifiutare La riprensione Rovina La vita E se va avanti Rovina L'eternità Cosa vuol dire In fin dei conti Rifiutare La correzione A volte Non vogliamo vedere Quanto è brutto Ma cosa vuol dire Giovanni 3 Trovate Giovanni 3 Giovanni capitolo 3 Dal versetto 19 A 21 Questo è Quello che è la realtà E spaventa Quando noi Rifiutiamo La riprensione Ora il giudizio È questo La luce È venuta Il mondo E gli uomini Hanno amato Le tenebre Più che la luce Perché le loro opere Erano malvagie Infatti Chiunque fa cose malvagie Odia la luce E non viene Alla luce Affinché Le sue opere Non siano riprovate Ma chi pratica La verità Viene alla luce Affinché le sue opere Siano manifestate Perché sono fatte In Dio Cosa dice? La luce Gesù Cristo Viene nel mondo Per Rendere visibile Il peccato Perché c'è perdono Ma se io non voglio Lasciare il peccato Da chi mi sto Allontanando? Da Cristo Infatti Qui mi spaventa Ma dice Odia la luce Odia la luce La luce Si risplende E mostra i miei peccati Ma non voglio Riconoscere Non voglio Abbandonare i miei peccati Quindi Mi allontano Dalla luce La luce Che è Cristo Mi dà fastidio Lo Spirito Santo Mi parla Anche tramite Qualcuno che viene Senti Senti Marco Voglio parlarti Di un peccato Vanno su Le barriere Non voglio sentire Ma no Ma no Ma non è vero Ma tu hai capito male Io non voglio vedere Ma chi sto Rifiutando Veramente La persona È solo Una portavoce La persona È solo Una portavoce Sto Rifiutando Gesù Cristo Affettivamente La luce Di Cristo Sempre Ci fa vedere I nostri peccati Perché Perché ci ama E vuole Restare in comunione Con noi Ma Cristo È il Santo Di Dio E la luce Non ha comunione Con le tenebre Perciò Ci fa vedere I nostri peccati Finché possiamo Vederli Confessarli Abbandonarli Essere perdonati E anche Purificati Per avere Comunione E quando Cado Mi fa Vedere Di nuovo E grazie a Dio C'è perdono In Gesù Cristo Ma se Rifiuti Rivedere Se Rifiuti Rivedere Non ho Comunione Con Cristo Cosa vuol dire Odiare La riprensione Come Mi vedo Se odio La riprensione Voglio Voglio Vedermi Bene Cosa vuol dire Quello Cosa vuol dire Odiare La riprensione Voglio Vedermi Giusto Per mio Merito Quindi Non ho Bisogno Di Cristo Mai Lo direi In modo Palese Ma è quello Che sto Pensando Io Sono Giusto Io Sto Camminando Bene Quindi Non ho Bisogno Di Cristo Perché Sono Io Bravo Ma tu Sbagli Non è vero Quello Che dici E io Non mi Vedo Col Peccato Quindi Non ho Bisogno Di Cristo Questo Non è Il cuore Della Salvezza La salvezza Mi vedo Sempre Bisognoso Di Cristo Perché So che Al mio Meglio Non serve Il Sufficiente E quindi Mi vedo Sempre Bisogno Di Cristo E per Questo Il Saggio Se lo Riprendi Ti Ama Perché Dice Non avevo Visto Grazie Dio Grazie Che mi Ha Mandato Quella Persona Non Avevo Visto E voglio Più Di Cristo Per Chi È Prezioso Cristo Per Chi È Prezioso Cristo Per Chi Vede O Per Chi Non Vede Il Peccato Cristo È Poco Prezioso Per Tanti Che Si Chiamano Credenti Perché Non Vogliono Vedere Il Peccato Ma Quando Una Persona È Tenero E Vuole Vedere Il Peccato Cristo È Estremamente Prezioso Perché Oh Signore È Vero Tu Sei Santo Grazie Per Cristo In Cristo C'è Per Dono Io Ti Presento Questo Peccato Ti Ringrazio Che In Cristo Mi Perdoni E Ho Un Cuore Che Trabocca Di Gioia Ringraziamento In Apocalisse 2 Lettera Alle Sette Chiese Capito 2 3 Cristo Parla Della Chiesa Di Efeso Che Tipo Di Chiesa Era Una Chiesa Dock Tutto Andava Benissimo Ma Ha Detto Però Avete Ho Una Cosa Contro Di Voi Tra Vedetevi Se No Tiro Fuori La Candala Molto Grave Qual Era La Cosa Che Avevo Contro Di Loro Una Chiesa Doctrina Buona Buone Opere Camminavano Bene Ma Avevo Un Problema Con Loro Grave Qual Era Avete Perso Il Vostro Primo Amore Qual È Il Primo Amore Di Un Credente Quando E Per Forza Crea Questo Grande Oh Signore Grazie Oh Signore Grazie Un Grande Amore Per Cristo E Loro Avevano Perso Il Loro Primo Amore Perché Non Stavo Vedendo I Peccati Tutti Giorni Che Chiaramente Non Erano Peccati Gravi Carnali Magari Erano Molto Più Santi Di Tanti Altri Chiese Ma Non Avevano Perso Il Primo Amore E Cristo Diceva Questo Grave Allora Se Ti È Difficile Se Ti Trovi Che Forse Da Tempo Ti Rendi Conto Io Io Non Voglio Vedere I miei Peccati Quando Non Mi Parla Mi Da Fastidio Almeno Se Non Peggio Fastidio Dentro Di Me Mi Indurisco Allora Cosa Devi Fare Cosa Devi Fare Prima Di Tutto Prega Dio Chiedendo Ad Altri Di Pregare Per Te Perché Se Io Voglio Vedermi Bene È Naturale Per Me Di Dire All' Altri Guarda Io Odio La Riprensione Prega Per Me Se Io Odio La Riprensione Vado Ad Altri A Svelare Io Voglio Vedermi Bene Chiaramente Voglio Che Altri Mi Vedano Bene Naturalmente Il primo Coltellato Che Posso Dare Il mio Peccato Di Andare Agli Altri Sto Dando Una Coltellata Forte A Questo Peccato Poi Prego Signori Mostrimi La Gravità Della Mia Condizione Onestamente Metti In Dubbio La Salvezza Odiare La Riprensione Metti In Dubbio La Salvezza Non sto Dicendo Che Non Sei Salvato Sto Dicendo Che Metti In Dubbio Che Sei Salvato Perché Dice Ma Scusami Hai Lo Spirito Santo Vede Cristo Come La Tua Giustizia Perché Sai Di Non Averne Cioè La Salvezza E Sapere Io Non Ho Giustizia Mia Cristo È La Mia Giustizia E Se Non Vuoi Vedere Il Tuo Peccato Pensi Di Veri Giustizia Tua La Tua Condizione È Grave Umili Ti Corri A Cristo Perché Attenzione Uno Cade In Un Peccato Che Sia Aduterio Che Sia Scatodiera Cioè Tutti Lui Sono Gravi Ma Certamente Aduterio È Gravissimo Scatodiera Può Sia Una Cosa Quotidiana Non Vuol dire Che Non È Grave Ma Che Sia Grande O Piccolo Uno Cade In Un Peccato E Qualcuno Viene A Riprendere Quella Persona E Nessun Peccato È Piccolo Ma Dico Un Peccato Quotidiano Ok Scatodiera Un Egoismo Orgoglio Quello Che Sia E Qualcuno Sai Fratello Sai Sorella Quella Azione Egoista Come Hai Fatto O Quello Che Sia Allora Se Io Sono La Persona Che Dicevo E Se Io Reagisco Odiano Le Riprensioni Qual È Il Mio Vero Problema Gravissimo Davanti Dio Quello Che Ho Fatto In Questo Esempio Di Egoismo O O O Odiare Le Riprensioni Qual È Più Gravi Ma Quello Si Perdona Ma Se Io Odio La Riprensione In Quelle Condizioni Non C'è Perdono Perché Io Rifiuto Di Confessarlo Cioè Agire Con Egoismo In Questo Esempio È Un Peccato Ma Si Risolve Subito Oh Signore Perdonami Quello Egoismo Risolto Odiare La Riprensione Crea Una Barriera Immensa Fra Me E Dio Che Diventa Sempre Più Difficile Superare E Quindi È Gravissimo Un'altra Cosa Che Può Aiutare Considerare Non Solo Il Peccato Che Hai Commesso L'egoismo In quell'esempio Ma Soprattutto Considera Il Fatto Di Odiare La Riprensione Che Vuol Dire Cosa Vuol Dire Signore Vuol Dire Che Io Non Voglio La Luce Di Cristo In me Perché Non Voglio Vedere Il Peccato E La Luce Di Cristo Fa Vedere Ma Non Voglio Vedere Il Peccato Vuol dire Signore Io Non Voglio Cristo No Signore Questo È grave È grave E se Se E se Vedere 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 Ti Aiuto Merita Sulla Gravità Della Tua Condizione Non Quello Dell'egoismo In questo Esempio No Quello Di Non Voler La Luce Di Cristo Che Ti Mostri Il Peccato Merita Anche Sull'inganno Del Peccato Cosa Ti Promette Il Peccato Di Non Voler Vedere Il Peccato Cosa Ti Promette Che Cosa Ti Offre Il Peccato Che Ha Grande Valore Cosa Che Cosa Ti Promette Il Tuo Orgoglio Di Non Voler Ammettere Una Persona Ti Parla E Tu Sai Benissimo Che Ha Ragione Ma Tu Non Vuoi Dirlo Cosa Ti Sta Offrendo Il Tuo Orgoglio Ti Sta Offrendo Qualcosa Che Cos'è È La Verità È La Verità È Importante Riconoscere Che Tuo Orgoglio È Un Bugiardo Che Solo Ti Fa Male Avete Sentito Negli Anni Di Un Uomo Che Conoscevo 47 Anni Fa Che Ha Abbandonato La Moglie Perciò Anche I Figli Per Una Giovane Donna Lui Aveva Dico Circa 45 Anni Che Cosa Gli Ha Promesso Il Peccato Una Vita Più Piacevole Un Amore Più Eccitante Che Che Cosa Erano Tutte Menzogne Alla 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 Tutto Quello Che Il Peccato Gli Prometteva Era Un Inganno Nulla Di Quello Lo Sorrisceva E Ha Fatto Perdere Tutto Quello Che Era Bello Da Dio Appunto Che Dopo Un Anno La Sua Vita Era Distrutta E Lui Tornato Alla Moda Dicendo Io Non Merito Il Tuo Perdono Ma Non Mi Perdonaresti Però Era Distrutto Allora Quando Noi Odiamo Il Peccato Cosa Ci Sta Promettendo Il Nostro Orgoglio Produce Benedizioni Produce Veri Benefici O Piuttosto Ci Inganna Con Falsi Promesse Che Alla Fine Non Ci Danno Nulla Che Non Solo Dolore E Ci Ruba Da Tutte Le Benedizioni Che Dio Ci Ha Dato E Importante Vederlo Così E Ci Fa Perdere Comunione Con Cristo Quindi Abbiamo Bisogno Di Riflettere Signore Quante Volti Ho Odiato La Reprensione La Riprensione Ma Dato Mi Ha Solo Tolto Di Vederlo E Meritarlo Molto Al Punto Che Lo Odi Che Lo Odi Questo Peccato Così Quando Arriva Con Le Che 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 Quella Donna Potrebbe Provocare Nella Sua Vita E Serebbe Scappato Noi Dobbiamo Vedere Il Peccato Di Odiare La Riprensione Per Quello Che È E Peggio Di Qualunque Male Che Chiunque Potrebbe Mai Farci I Tuoi Problemi Le Situazioni Difficile Le Circostanze Pesanti Non Possono Danneggiarti Per Nulla In Con Con Odiare La Riprensione E Quindi Dobbiamo Capire Questo Quindi Preghiamo Signore Fammi Vedere L'inganno Dei Miei Ragionamenti Quando Non Voglio Sentire I Me Peccati Perché Sentire I Me Peccati Mi Permette Di Confesarli Che Mi Permette Di Godere Ancora Cristo E Le Tue Benedizioni Quanto È Meraviglioso Imparare A ricevere Con cuori Umili La Riprensione Per Godere Così Tanto Di Dio O Che Possiamo Desiderare Questo Abbandonare Tutto Di Falso Riconoscere Il falso Aiutarci Gli Un Gli Altri Pregare Gli Un Per Gli Altri E Camminare Così Preghiamo Padre Ti Ringrazio Avresti Avuto Ogni Diritto Sarese Stato Giusto Solo Abbandonarci Perché Onestamente Ciascuno Di Noi Ha Odiato La Riprensione Chi Molto E Chi Ogni Tanto E Che Stoltezza Da Parte Nostra Grazie Che Non Ci Ha Abbandonato Totalmente Grazie Che In Cuore Lo Spirito Ci Parla Stasera Abbiamo Sentito Dalla Tua Parola Dei Principi Che Ci Mostrano La Gravità Di Questo Inganno Che Ci Ha Preso Tante Volte E Ti Prego Che Possiamo Comprendere Ancora Di Più Quanto È Falso E Quanto Daneggia E Quanto Ci Ruba Di Tutto Quello Che È Buono È Puro È Vero È Bello In realtà La carne Non vuole Vedere Il Peccato Ma È Proprio Vedere Il Peccato Che Ci Permette Vedere Più Di Cristo E Non C'è Nula Che Può Sorrispare Il Nostro Cuore Se Non Veramente Solo Gesù Cristo Quindi Oh Grazie Per La Tua Parola Grazie Pello Spirito Santo Continua La Tua Buon Opere Noi E Prego Che Saremo Teneri Di Cuori E se Abbiamo Questo Peccato Una Cosa Che Va Avanti Che Possiamo Umiliarci Vederlo Per Quello Che È Confessarlo E Riprendere Camminare In Stretta Comunione Con Te Che Sei La Luce Oh Grazie Grazie Che Per Quanto Abbiamo Peccato In Te In Cristo Gesù C'è Pieno Perdono Che Grazia C'è Pieno Perdono In Gesù Cristo Per Chiunque Si Umilia E Confessa Veramente Il Suo Peccato Perdono E Ci Purifichi Oh Padre Grazie Questo Perché Cristo È andato Alla Croce Per Subire L'ira Per Tutti I Peccati Che Confessiamo Grazie Oh Padre Glorificati E Noi Mostrici L'inganno Del Peccato E Il Valore Di Cristo Per la Tua Gloria E Nostro Bene Ti Prego Nel Nome Di Gesù Cristo Amen Amen